Poi, il secondo gioco del quale vi parlo adesso è Outlast Posso dirvi che è un videogioco del 2013 Purtroppo non ho la confezione perchè in realtà l'ho acquistato in versione digitale nel 2016 Quindi purtroppo non ho il disco rigido nella copertina che purtroppo non posso farvi vedere E quindi ecco, anche questo videogioco comunque lo acquistai nel 2016 anche quello Fine 2015, inizio 2016, insomma quel frangente fu per me fantastico Insomma, veramente la mia carriera di videogiocatore fu fantastica in quel periodo E la sinossi ufficiale di Outlast recita Orrori incredibili ti attendono nel manicomio di Mount Massive Tra le solitarie vette del Colorado Una casa di cura per malattie mentali a lungo abbandonata E recentemente riaperta dal settore ricerca e beneficenza della multinazionale Markov Corporation Il manicomio è tornato in attività, nel più totale segreto, almeno finora Una denuncia anonima spinge il giornalista indipendente Miles Apshore A introdursi nella struttura Scoprirà qualcosa di terrificante al confine tra scienza e religione e natura E qualcosa di completamente diverso Una volta all'interno, la sua unica via di fuga è collegata alla terribile verità celata nel cuore del manicomio Outlast è una vera esperienza survival horror che dimostra come i mostri più terrificanti siano sempre generati dalla mente umana Che ne pensate? Allora, per quel che riguarda questo videogioco Io posso dirvi, ecco, che questa è una delle esperienze di gioco migliori di tutta la mia carriera da videogiocatore E non posso dire altro, penso comunque, ecco, bellissimo, fatto veramente bene Una grafica da far paura Soprattutto perché non era appunto parte del suo compito è quella La storia è molto molto appassionante, interessante e inquietante Quindi, ecco, se siete appassionati di videogiochi horror ve lo consiglio assolutamente Veramente è uno dei migliori giochi ai quali possiate giocare E... è disponibile, mi pare, in versione rigida, su disco rigido, non ne sono sicuro Però su PlayStation Store è presente ed è un prezzo molto molto accessibile A 19,99€ Se siete incuriositi prendetelo assolutamente che fate un affare Veramente Poi, ecco, in realtà, abbiamo direttamente collegato ad Outlast Outlast Whistleblower del 2014 Che è il DLC di Outlast DLC è l'acronimo di Download Contenute Che è ovvero contenuto scaricabile E generalmente si tratta di... Si tratta di una prospettiva diversa dello stesso gioco Ovvero vivere l'esperienza di gioco Nei panni di un altro... di un altro personaggio presente all'interno della storia del videogioco Nel caso specifico viviamo gli eventi del dipendente della Markov Che nel primo gioco ci aveva inviato le informazioni sulla quale poi abbiamo basato la nostra ricerca Ed è basato il nostro approdo nel manicomio Ovviamente viviamo esperienze diverse da quelle vissute nel primo gioco Ogni tanto c'è qualche uovo di Pasqua per dirlo in italiano Qualche easter egg Che ci fa capire più o meno a quale punto siamo del primo gioco Personalmente ecco l'ho trovato interessante E' un buon completamento e riempitivo del primo videogioco Su Playstation Store è acquistabile a 8,99€ Se vi va insomma ecco per completezza ve lo consiglio E poi legato sempre all'universo di Outlast abbiamo anche Outlast 2 del 2017 Dove seguiamo le disavventure di due sposi giornalisti Noi siamo Blake e dobbiamo ritrovare nostra moglie Lynn Che a un certo punto vivrà una situazione particolarmente inquietante In questo villaggio sperduto tra le montagne dove la popolazione si comporta in modo strano Costo su Playstation Store 29,99€ Sul consigliarvelo in realtà non so come orientarmi perché io in realtà non l'ho giocato Però ho visto il gameplay su Youtube Ho seguito tutta la storia fino alla conclusione E devo dirvi che comunque dal gameplay almeno mi è sembrato interessante Poi diciamo che comunque sui videogiochi che vi consiglio Tendo a dare comunque giudizi in base alla mia esperienza di gioco personale Appunto non avendolo giocato comunque non mi sbilancio più di tanto Però posso dirvi che la storia è interessante ecco Metterli a paragone pur volendo è difficile perché comunque ecco sono due giochi con due trame completamente diverse Però ecco posso dirvi che forse la prima mi ha appassionato di più Però su questo non premo più di tanto perché ecco poi quella è una questione in realtà totalmente soggettiva Quindi ecco se volete potete andarvi a vedere qualche gameplay di entrambi di tutti e tre i giochi Sia Outlast che Whistleblower che Outlast 2 E poi ecco insomma se volete provarlo ecco è una vostra scelta Grazie a tutti Grazie a tutti.